Doveva essere il momento del rilancio del turismo invernale in Abruzzo, nei bacini sciistici di Roccaraso e Rivisondoli e su quelli di Campo Imperatore, oltre 100 km di piste nevate, purtroppo senza turisti a causa del Covid. Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, chiede immediati ristori per consentire agli imprenditori e alle oltre 1500 persone che vivono con il turismo della neve di andare avanti. La montagna sta pagando un duro prezzo, purtroppo le chiusure si stanno prolungando in un momento per noi fondamentale in cui i fatturati determinano tutto l'anno lavorativo, afferma ancora il primo cittadino. Rispettiamo la situazione sanitaria ed il pensiero vale famiglie che hanno avuto morti in seguito alla pandemia, ma siamo preoccupati perché bisogna tenere alta l'attenzione sulla montagna. Chiediamo ristori importanti, proporzionati ai mancati guadagni per tutte le categorie, dai gestori degli impianti agli operatori turistici, dai commercianti ai maestri di sci, alle scuole di sci, dai lavoratori stagionali ai piccoli imprenditori. La situazione è complicata e drammatica, la montagna rischia di subire un colpo mortale se non si interviene rapidamente. E intanto, proprio domani, giovedì 21 gennaio, la conferenza delle regioni e delle province autonome si riunirà in mattinata. All'ordine del giorno, i temi che saranno affrontati dalle conferenze Unificate e Stato-Regioni, che il ministro Francesco Boccia ha convocato nel pomeriggio. Tra i temi all'ordine del giorno, la ratifica del documento su linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte di sciatori amatoriali, alle storie del settore del turismo legato alle stazioni sciistiche.